come si può parlare di questa partita senza essere maleducati senza essere scurrili bisogna fare uno sforzo bisogna fare uno sforzo incredibile perché tu non puoi non puoi non puoi mi dispiace, non si può non esiste non esiste e vi chiedo una sola cortesia un favore non venite mai a chiedere quanti punti mancano se la Roma vince se la Roma perde se l'Atalanta pareggia vi scongiuro non chiedetemi queste cose perché io poi credo che a un certo punto le cose siano da meritare è sul campo il calcio è uno sport meritocratico è uno sport che le cose te le devi andare a prendere e noi venivamo da 14 punti in 14 partite due vittorie in campionato in tre mesi due vittorie in campionato in tre mesi giocavamo in casa contro l'ultima in classifica retrocessa da boh non so quanto siamo riusciti a pareggiarne un'altra a fare 15 punti in 15 mesi in 15 partite magari in 15 mesi un po' 15 punti in 15 partite ragazzi è difficile e poi a me passa onore a questo a questo tifoso e veramente onore ai ragazzi che erano in curva sud oggi nonostante tutto quello che è successo in questi giorni i migliori in campo per me sono loro sotto la pioggia con il freddo lì erano lì per la Juventus è stato uno stadio vuoto è stato uno stadio silenzioso onore onore a quelli che erano in curva sud oggi onore veramente grazie però ragazzi poi io credo anche che sia impossibile arrivare a valutare la partita cioè uno non può bisogna anche un po' volersi bene nella vita bisogna anche un po' volersi bene e non si può poi mettersi qui a valutare la partita e dire eh beh no sai la traversa di Blaovic il palo di Cambiaso la traversa di Miretti all'ultimo secondo questi per grazia divina non ci hanno fatto gol noi concidiamo il gol del 1-0 non marcando in area di rigore nostra su un calcio d'angolo il gol lo facciamo ancora una volta su calcio d'angolo la squadra ancora una volta è apparsa una squadra che va in campo per farci un favore ma mi state facendo un favore? io vorrei fare una domanda ai calciatori della Juventus voi siete convinti di fare un favore ad andare in campo con la maglia della Juventus perché se la risposta magari è tutto qui magari è tutto qui ma se la risposta è sì se voi siete convinti di fare un favore ad andare a giocare una partita con la Juventus beh sappiate che non è così è il vostro mestiere è il vostro compito è il vostro lavoro lo dovete fare per professione perché siete pagati profumatamente per farlo siete una delle rose più pagate in Italia insieme all'Inter le prime due e loro stanno festeggiando sono ubriachi da dieci giorni e noi invece siamo ubriachi da tre mesi ma non per i festeggiamenti perché se magari è così magari è così magari voi pensate semplicemente che ci state facendo un favore io vedo dei calciatori che vogliono giocare fare una partita come io ci voglio di pagare gli F24 per la partita IVA spoiler non ne ho mai voglia anzi mi provoca anche un certo nervoso giochiamo gli ultimi venti minuti in casa contro l'Atalanta retrocessa non dovete fare un favore a me non dovete fare un favore ai tifosi mi spiace non è un un favore che dovete fare un favore che dovete fare a voi stessi per guardarvi in faccia è un favore che dovete fare a voi stessi per guardarvi in faccia e dire ma sai che non sto rubando lo stipendio ma sai che mi merito di giocare nella Juventus ma sai che mi merito l'anno prossimo di non essere in una squadra che se arriva a metà classifica ha fatto il suo o che se non retrocede ce la festeggiare perché poi bisogna anche capire la dimensione in cui si lavora e avere la maglia della Juventus addosso significa che questa roba è inaccettabile è vergognosa è patetica e non me ne frega niente di analizzare la partita e l'occasione della cosa della Juventus perché questa sera contro la Salernitana non c'era modo non c'era un incastro che dice ma Dio buono poverini sai che cavolo ieri il Bologna ha vinto a Napoli e ci ha sorpassato con questo punto andiamo pari pari a loro e dobbiamo andare a giocare a Bologna prima c'è una finale di Coppa Italia che sarà divertentissima se sarà divertentissima se sarà divertentissima proprio e sapete perché è divertente? perché da una parte c'è il lavoro di Gasperini che è un lavoro che puoi toccare e dall'altra parte c'è il lavoro di Allegri che è un lavoro veramente di una povertà che è imbarazzante e invece che dire in conferenza stampa poi a fine dell'anno parleremo cercheremo di capire i problemi i problemi lo hanno capito durante l'anno perché la Juventus ha fatto 15 partite un gironi di ritorno in Serie A corrisponde a 19 ne mancano due in cui veramente c'è da vergognarsi c'è da guardarsi allo specchio dire ma io mi merito di essere allenatore della Juventus io mi merito che ci siano dei tifosi che ancora sono qui a dire per favore rimani allegri perché la riconoscenza nel calcio è infinita no non può essere la base dei ragionamenti il ciclo 1 lo lasci fuori se l'unica motivazione per far rimanere allegri la Juventus anche l'anno prossimo è perché l'anno scorso nel caso generale lui quella non è una roba d'allenatore quella non è una roba d'allenatore il campo parla ragazzi il campo parla il campo urla il campo urla perché la salernitana la salernitana è una squadra con dei limiti pazzeschi e stasera quando li vedevo ripartire dicevo ma cazzo ma ci credono anche questi ci credono pure questi e anche stasera un discorso legato al fatto che i calciatori della Juve sono scarsi e anche stasera il problema è il fatto che siano scarsi o che siano poco professionali perché la Juventus è stato sto schifo tattico dall'inizio alla fine fatta eccezionale per le prime giornate che sono andate nel dimenticatoio dopo i quattro gol di Sassuolo di Reggio Emilia è stato questo e per tutto l'anno ci siamo detti che Sareventus faceva punti era un motivo il fatto che avessero voglia di farli e c'era veramente una voglia più grande di quelli contro cui giocavi e quindi la partita la andavi a decidere con quella grinta lì quella grinta lì non è che non c'è più è un po' calata e annullata non è un problema di piedi non è un problema di tecnica è un problema di tattica è un problema che siamo sempre schiacciati e passivi che ce li portiamo in area è sempre quel problema che quando abbiamo il pallone è come se ce l'avesse Luca Tosella e l'Alliance Stadium uguale perché sono scarso no perché non ho idea di dove devo darla non ho idea di dove devo darla poi sono scarso io questi qui magari ce ne sono alcuni che sono scarsi ce ne sono altri che dovranno andare via i calciatori della Juve stanno facendo una figura barbina e ci stanno rimettendo anche una gran parte di carriera ma quando giochi queste partite in casa con la Salernetana retrocessa dove se tu fai tre punti vai in Champions League guai al primo che mi viene a parlare di questo è scarso quello è scarso ma hai visto questo con un stop e il pallone devono parlarmi della voglia con cui scendono in campo perché devono conquistarsi quella cassa di Champions League senza la spinta da dietro sempre degli incastri e degli altri risultati perché mercoledì la finale di Coppa Italia la finale di Coppa Italia non c'è un risultato che si incastra va a incatenarsi che allora se quel risultato lì poi quella se te contro l'Atalanta e se ne prendi dieci in finale di Coppa Italia o cinque quattro tre quello che è non è che puoi dire ma però poi il risultato di quell'altra e se questa roba è diventato lo standard di rendimento della Juventus è un problema e quindi vi dico sono un coglione io sono un coglione io perché sono veramente un coglione io che pensavo oggi di poter vincere contro la Salernitana retrocessa sono un coglione io perché non ci ho capito un cazzo veramente non perché avevo fiducia in questa Juventus ma perché pensavo cavolo dall'altra parte davvero c'è la Salernitana retrocessa che questi qui sono terrificanti e cavolo gli abbiamo visti i limiti tecnici della Salernitana o ci siamo concentrati soltanto sui limiti tecnici della Juventus oppure questi qua erano organizzati sappiamo cosa doveva fare due o tre ripartenze fatte bene con il cuore con il coraggio tanto c'era niente da perdere noi nemmeno l'orgoglio di mettere in campo questa roba qui nemmeno la voglia di guardarsi allo specchio e dire cazzo però dopo aver fatto 14 punti 14 partite prima della finale Coppa Italia almeno siamo una squadra che va a giocare la Champions League invece se pare al Bologna se pare al Bologna e ce ne vanno 5 quest'anno di squadre in Champions League 5 5 dita una preghierina che ci sta lassù che ce ne vanno 5 e nonostante questo siamo qui a 180 minuti dal termine della stagione a dire mamma mia ma la Roma all'Atalanta che cosa devono fare la Roma e l'Atalanta per far sì che la Juve si qualifichi vergognatevi vergognatevi perché questa qui non è roba da Juventus questa qui è roba inaccettabile e non parlo di quanto è bravo uno di quanto è bravo quell'altro parlo semplicemente di quanto uno ha voglia di dimostrare di essere un tesserato della Juventus che sia l'allenatore che sia il giocatore indegni tutti e vergognatevi e vergognatevi perché stasera c'è veramente da vergognarsi dopo un filotto che ha fatto ridere ha fatto scappare da ridere questa partita qui non la potevate sbagliare e non la dovevate sbagliare vergognatevi tutti vergognatevi vergognatevi e non la potevate sbagliare